E' tutto vero, quello è incredibile, perché dopo Usain Bolt vincere le Olimpiadi è qualcosa di veramente incredibile. Ci metterò 4-5 giorni per realizzare quello che è successo. Il Presidente del Consiglio, un secondo, vuole parlare. Il Presidente del Consiglio dei Ministri. Sì, sì, il Presidente italiano. Il Presidente del Italia. La entrevista, la fa il Consiglio del Italia. Allì sono le parole del nuovo rei del atletismo, il campionato della città.